Seneca. Libro II. Lettera XIX. Oneri e onori. Sono felice ogni volta che ricevo le tue lettere. Mi colmano di buone speranze e non mi portano più solo promesse, ma precise garanzie su di te. Continua così, ti supplico, che posso chiedere di meglio a un amico se non ciò che chiedo per il suo stesso bene. Se puoi, sottraiti a codeste e occupazioni, se no, staccatene a viva forza. Abbiamo già sprecato troppo tempo. Ora che siamo vecchi cominciamo a preparare i bagagli. È disonorevole? Abbiamo vissuto in mezzo ai marosi, almeno moriamo in porto. Non ti consiglio di ricercare la fama con una vita ritirata. Non devi sbandierarla e nemmeno nasconderla. Pur condannando la follia umana, non arriverai mai al punto da volere che tu vivessi nell'oscurità, dimenticato da tutti. Comportati in modo che il tuo ritiro non spicchi troppo, sia però evidente. Quelle persone che sono agli inizi e devono ancora prendere le loro decisioni vedranno se scegliere una vita oscura. Tu non sei libero. Sei al centro dell'attenzione. Per il vigore del tuo ingegno, l'eleganza degli iscritti, l'amicizia con uomini nobili e illustri, ormai sei famoso. Anche se ti apparti e cerchi di nasconderti completamente, le tue azioni passate ti metteranno in mostra. Non puoi rimanere nell'ombra dovunque tu fuga. Ti seguirà gran parte della vecchia luce. Puoi però rivendicare la tua tranquillità senza tirarti l'astio di nessuno, senza rimpianti o rimorsi. Che cosa dovresti lasciare a mare in cuore? I clienti? Nessuno di loro vuole te, ma qualcosa da te. Un tempo si cercava l'amicizia, oggi il profitto. I vecchi cambieranno testamento vedendosi abbandonati. Il cliente busserà ad altre porte. Una cosa di gran valore non può costare poco. Valuta se preferisci rinunciare a te stesso o a qualcuno dei tuoi privilegi. Ti fosse toccato di invecchiare nello stesso stato in cui nascesti e la fortuna non ti avesse innalzato tanto. La tua rapida carriera, il governo della provincia, l'ufficio di procuratore e tutti i vantaggi connessi ti hanno allontanato dalla visione di una vita sana. Poi se succederanno cariche sempre più importanti, quale sarà il risultato? Che cosa aspetti? Di aver esaurito tutti i tuoi desideri? Non arriverà mai quel momento. Noi diciamo che c'è una successione di cause cui il fato è concatenato. Tale è la successione dei desideri. Nascono l'uno dall'altro. Ti sei cacciato in un sistema di vita che mai porrà fine da sé alle tue miserie e la tua schiavitù. Sottraiti al gioco il collo ormai consunto. Meglio un taglionetto che una continua pressione. Se ti ritererai a vita privata, avrai di meno, ma sarai soddisfatto. Ora, invece, la gran quantità di beni raccolti da ogni parte non ti sazia. Ma allora, preferisci la sazietà nell'indigenza o la fame nell'abbondanza? Il ricco è avido. È soggetto all'avidità altrui. Fino a quando non ti basterà niente, tu stesso non basterai agli altri. E come ne uscirò, domandi? In qualunque modo. Pensa a quanto hai tenuto per il denaro. Quanto ti sei affaticato per la carriera. Bisogna usare qualcosa anche per conseguire il riposo. Oppure invecchiare nelle preoccupazioni delle procurature, e poi delle cariche cittadine in continua agitazione e fra sempre nuove inquietudini. Non vi si può sfuggire né con la calma moderazione né con una vita calma. Che importa se tu vuoi vivere tranquillo? Il tuo destino non vuole. E che accadrà se anche ora gli permetterai di crescere? Le paure aumenteranno proporzionalmente ai successi. Voglio a questo punto riferirti a una frase di Mecenate. Ha detto molte verità anche in mezzo a tormenti della sua posizione. L'altezza di per sé espone le cime ai fulmini. Puoi sapere in che libro l'ha scritto? In quello intitolato Prometeo. Mecenate voleva dire che chi sta in alto è esposto ai colpi della sorte. E tu valuti tanto il potere da giudicare queste parole in un discorso da ubriaco. Quell'uomo ebbe un grande ingegno e avrebbe dato un insignio esempio di eloquenza romana se non lo avesse snervato, anzi castrato la prosperità. Attende questa fine se non ammai le vele, se non ti dirigi verso la terraferma, cosa che gli decise di fare troppo tardi. Con questa massima di Mecenate avrei potuto saldare il mio debito con te, ma se ben ti conosco, ne farai una questione e vorrai ricevere quanto ti devo in valuta nuova e pregiata. stando così le cose, devo chiedere un prestito a Epicuro. Scrive Bisogna prima guardare con chi si beve e si mangia e poi che cosa si beve e si mangia. Mangiare senza un amico è vivere come tra i leoni e i lupi. Questo non ti succederà se non farai vita ritirata, altrimenti avrai come commensali quelli scelti tra la massa dei clienti, dallo schiavo a detto ai nomi, chi cerca gli amici nell'atrio o li prova a tavola sbaglia. Il male peggiore per l'uomo indaffarato e occupato ad amministrare i suoi beni è ritenere amici persone cui egli non è amico e pensare che i suoi favori servano ad accattivargli gli animi, mentre certuni più sono debitori e più odiano. Una piccola somma data in prestito crea un debitore. Una grossa crea un nemico. E allora? I favori non procurano amici? Certo, li procurano se è possibile scegliere chi li riceve. Se sono fatti a ragionveduta, non distribuiti a caso. Perciò, ora che cominci a ragionare con la tua testa, segui questo consiglio dei saggi, giudica più importante il beneficiato del beneficio. Stami bene. Lucio Aneo Senega Grazie a tutti.